Erano stati sorpresi nel 2013 da una pattuglia di carabinieri durante un servizio di controllo nel quartiere Zen 2 di Palermo mentre guardavano un video su una fotocamera digitale nascosta immediatamente alla vista dei militari. Il video riproduceva un violento e sanguinoso combattimento tra due cani pitbull a cui assistevano diversi spettatori e scommettitori che incitavano gli animali riprendendo il tutto con cellulari e telecamere. Ieri tre di loro sono stati condannati dal giudice Erika Di Carlo per maltrattamento di animali e combattimento fra cani. Un anno e 50.000 euro di multa per Natale Moncada mentre un anno, un mese e 10 giorni e 52.000 euro di multa per Gaetano Giglio e Gioacchino Meli. Parti civili del processo le associazioni animaliste LAV, UGDA e LIDA Palermo il cui risarcimento ammonta a 1.500 euro ciascuna oltre 2.800 euro di spese processuali. È stato grazie alla visione dei filmati presi in possesso dai carabinieri che è stato possibile risalire a sei degli individui ritratti nelle immagini. Oltre ai tre condannati, infatti, altrettante persone sono state sottoposte, sempre nella scorsa giornata, alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Si tratta di Nicola Messina, Giuseppe Fina e Daniele Crucilla che verranno processati con rito ordinario il prossimo febbraio. Ulteriori indagini portarono i militari lo scorso 11 giugno su un terreno dove era stato costruito un ring simile a quello del filmato e in cui vi era un gallo ormai morto al quale era ancora attaccata una flebbo utilizzata per somministrargli sostanze dopanti.